Comprate il corso Info Marketing per Babbuini, è un corso di altissimo livello per chi vuole cambiare la propria vita e vuole uscire dalla libertà finanziaria. Fatelo, fidatevi, ho acquistato vari corsi e posso essere una videotestimonianza molto utile. E acquistate tutti i corsi perché si fa step by step, le cose vanno fatte step by step per arrivare in alto, si parte dal basso per arrivare in alto, ma non è che se acquistate uno già potrete posizionarvi, ma se fate step by step avrete più conoscenze, più conoscenze più marginate in teoria. Ringrazio tutti e ringrazio soprattutto Manuel, il mio venditore d'assalto che è sempre gentilissimo, ha uno staff fantastico. Con questo vi ringrazio, io non ho dormito oggi perché ieri ho studiato, quindi devo recuperare il sonno di ieri e dell'altro ieri. Pensate a che livello è questo corso.